Che figuracchen! Stamattina stavo bevendo il caffè e guardavo le notizie e mi esce Europei 2024 ed efficienza tedesca, dimenticatevi tutto ciò che pensavate di sapere! Boom! E così il New York Times ci riempie di amore e pubblicità verso il mondo esterno perché un reporter si sta girando tutta la Germania e i vari stadi per vedere come ci siamo organizzati per questa occasione degli Europei 2024? Male! I trasporti sono una catastrofe e sia che per andare agli stadi che per tornare dagli stadi è un'avventura questo reporter è rimasto talmente sconvolto dal fatto che tutti i cliché sui tedeschi non siano più veri che vuole farci un reportage più lungo e più diciamo importante per documentare questa emozionante esperienza che sta avendo in questi giorni e si è accorto della rassegnazione di chi in Germania ci vive e ormai si è abituato alle peripezie che deve vivere quando viaggia con Deutsche Bahn e con i servizi pubblici in generale però si è accorto che tutti i fan provenienti da altri paesi sono rimasti abbastanza sconvolti quanto lui del fatto che ci fossero treni in ritardo di 5 ore, treni che fossero stati annullati all'improvviso treni in ritardo e quindi coincidenze che sono state perse ma sono tutte cose normali a cui ci siamo abituati oramai in Germania effettivamente lui addirittura racconta che i tedeschi si guardano tra di loro sul treno e si lanciano occhiate come dire vabbè era chiaro, è Deutsche Bahn ecco, ha raccontato poi che è stato a Gelsenkirchen la settimana scorsa quando ha giocato mi pare Inghilterra contro Serbia e c'erano gli inglesi che erano senza parole poi ovviamente a Gelsenkirchen che è un po' più su rispetto a Monaco diluviava quindi c'erano anche famiglie coi bambini e mezzi strapieni mezzi in ritardo come abbiamo detto e quindi c'è stata perfino gente che dalla stazione allo stadio ha camminato per un'ora e mezza sotto la pioggia perché non c'erano altre possibilità di arrivare lo so che non stanno andando i lavori forzati però comunque insomma non è proprio piacevole spendere dei soldi organizzare una vacanza in un altro paese e vedere che insomma il trasporto pubblico fa un po' ecco, questo era un po' il sunto e poi addirittura pensate che Monaco ha dei treni delle metropolitane che vanno con un ritmo di circa 10 minuti da diciamo il centro fino all'Allianz Arena e è stato chiesto a questa società che gestisce i trasporti se avessero magari in programma di aumentarli di aggiungere qualche treno e la società ha detto no, no, no ci piace così come l'abbiamo pianificata e resteremo fermi con i nostri piani quindi c'erano le metropolitane settimana scorsa con le goccioline di acqua che scendevano veramente lungo i vetri dalla maria di gente che c'era dentro dal respiro umano che era un po' esagerato e quindi insomma faceva anche un po' schifo oltre al fatto del non avere spazio e niente ragazzi quindi questa è stata una figura meravigliosa che la Germania sta facendo con i suoi trasporti il discorso è un po' più complicato magari ve lo spiego meglio in un altro giorno perché è così disastrosa la situazione tra sporti pubblici al momento comunque ecco non stiamo ancora parlando di livelli di terzo mondo sono ancora accettabili ma insomma non ci abbiamo fatto una figura bellissima sul New York Times comunque la fine dell'articolo è abbastanza diciamo carina perché questo giornalista dice nonostante tutto nonostante io non abbia visto questa efficienza, precisione e affidabilità di cui parlano tanto diciamo rispetto ai tedeschi ho visto che le persone che aiutavano i vari diciamo eventi quindi negli stadi chi era lì come volontario davano il meglio di sé per essere accoglienti e per insomma creare un'atmosfera piacevole per gli ospiti oltre al fatto che in tutte le città c'è una fanzone dove si può vedere la partita su maxi schermi e anche lì per esempio a Stuttgart ho visto questa cosa molto carina sono stati organizzati vari diciamo stand dove si può sia mangiare sia bere chiaramente tante cose diverse quindi questo è stato un lobe da parte del giornalista e poi diceva appunto che c'erano tutti questi stand dove si poteva non so giocare a pallone oppure fare delle attività con i bambini eccetera ed è stata una cosa carina nel senso di riuscire a creare un po' di atmosfera anche per chi non fosse allo stadio niente ragazzi mi ha fatto un po' sorridere questa notizia e mi ha fatto anche un po' fare perché ho detto vabbè dai potevamo organizzarci magari un pochettino meglio per questa EM 2024 che facevamo una figura un po' più carina però vabbè via la prendiamo come viene viene dai non so se voi state seguendo gli europei li state seguendo fatemi sapere se vi stanno piacendo o non vi stanno piacendo se magari siete venuti in Germania a seguire qualche partita dal vivo negli stadi so che alcuni di voi ho visto le foto su Instagram di gente che conosco che è stata in vari stadi quindi niente se volete fateci sapere nei commenti come è stato se non ci siete stati come me fatemi semplicemente sapere nei commenti cosa ne pensate di questo articolo se il video vi è piaciuto pollice in su e noi ci vediamo al prossimo video ciao